però più che altro la propria esperienza e questo ci fa pensare perché se parliamo di giovani psichiatri un giovane psichiatra che non ha esperienza non darà mai un long acting e allora alcuni studiosi hanno fatto uno studio interessante in Corea dove hanno diviso due gruppi di psichiatri, chi era più esperto e chi era meno esperto chi aveva visto più di 10 pazienti long acting o chi meno, tenete presente che il tasso di prescrizione dei long acting in Corea è 1% quindi 10 pazienti per loro sono tanti, si sono chiesti come mai questo ed ecco che cosa hanno concluso hanno concluso che in effetti gli psichiatri più esperti davano più frequentemente delle informazioni al paziente sul long acting i loro pazienti li accettavano più volentieri rispetto ai pazienti che venivano visitati dagli psichiatri meno esperti e gli psichiatri stessi erano più soddisfatti dell'outcome dell'utilizzo del long acting ma uno studio che secondo me ha rivoluzionato il nostro modo di vedere, di capire quali sono le nostre attitudini nei confronti dei long acting è questo, attuato dal gruppo di Monaco che cosa hanno fatto questi autori? Hanno fatto uno studio che io semplificherò e mi scuso però per brevità espositiva vi dirò questo, hanno fatto uno studio in due fasi, prima di tutto hanno dato agli psichiatri dei questionari chiedendo quali fossero secondo loro le caratteristiche di un paziente al quale loro avrebbero dato un long acting o non avrebbero dato un long acting e il primo risultato lo vedete qui da questa parte ed è questo, cioè loro hanno visto che la maggior parte degli psichiatri identificava come potenziale candidato all'utilizzo dei long acting questi pazienti quindi con un rischio di pericolosità per gli altri, con una non aderenza con un rischio suicidario, con numerose ricadute e che aveva già provato altri depo di prima generazione e questo sinceramente non ci stupisce, lo stereotipo in effetti del paziente long acting ma la cosa interessante di questo studio è la seconda parte perché questi studiosi attraverso un'analisi multidimensionale, quindi una cluster analisi hanno riscontrato che in realtà ci sono due cluster di pazienti cioè ci sono due gruppi di pazienti ai quali i medici avrebbero dato comunque un depo e il primo, vedete, il primo cluster risulta corrispondere a questa immagine che il paziente classico resistente, che non ha un buon insight, che non ha una buona aderenza, più grave ma il secondo cluster è completamente diverso è un paziente molto ben informato della sua malattia, con un alto livello di educazione molto aperto a discutere il suo trattamento antipsicotico, con un alto livello di insight una buona aderenza, voi vi direte ma perché se ha buona aderenza dobbiamo dargli il long acting e un alto livello di partecipazione nel processo decisionali della sua malattia e questo ha rivoluzionato il nostro modo di vedere il paziente candidato per il long acting perché adesso tutti i giorni ne parliamo, in effetti ha rivoluzionato e ha influenzato anche altri gruppi questo gruppo francese, sempre del dottor Samalain, ha replicato lo studio nello stesso modo tra gli psichiatri francesi e ha visto che in effetti c'erano gli stessi significati con qualche differenza chiaramente legata alla cultura differente e hanno replicato anche la cluster analisi trovando questi due cluster anche in Italia illustri colleghi hanno provato a chiedere agli altri colleghi che cosa guardi quando devi dare un depot e noi italiani siamo molto pratici nel senso che guardiamo l'efficacia, la tollerabilità, l'aderenza ma ultimamente la nostra attenzione va anche al funzionamento generale e alla qualità di vita questo è il penultimo studio e quindi mi avvio le conclusioni però è interessante perché l'ho selezionato perché in realtà la tematica è sempre la stessa quindi quali sono le attitudini degli psichiatri nei confronti dei long acting ma la metodologia è completamente diversa ed è interessante perché questi studiosi si sono detti ma se io do un questionario io troverò solo quello che cerco e allora se io invece faccio un'altra cosa faccio dei colloqui tra lo psichiatra e il medico registro, trascrivo e poi vedo che cosa succede otterrò dei risultati diversi ed in effetti abbiamo dei nuovi risultati in questo studio di cui vedete qua sono tutti gli argomenti che sono stati trattati nelle visite chiaramente il numero di partecipanti a questo studio è minore perché capite il grande lavoro che c'è dietro questo studio questo è l'albero decisionale nel momento in cui il medico proponeva il trattamento al proprio paziente e questi sono i risultati interessanti che cosa hanno visto? hanno visto prima di tutto che nel 67% dei casi in realtà la decisione di dare o non dare un antipsicotico veniva attuata dallo psichiatra senza un input da parte del paziente o del caregiver quando però questi erano e venivano integrati diciamo nell'albero decisionale gli psichiatri erano molto più attenti a spiegare come funzionava la medicina quando proponevano un long acting rispetto a quando proponevano un trattamento orale in effetti questo è sovrapponibile noi spendiamo più tempo a spiegare al paziente forse quando proponiamo una puntura, un'iniezione rispetto a quando prescriviamo una pastiglina nel 50% dei casi però le discussioni, non c'era una discussione vera e propria sull'AI cioè che cosa hanno trovato? hanno trovato che anche quando il paziente aveva una terapia orale la metà delle volte lo psichiatra non gliela proponeva nemmeno quando invece lo psichiatra nell'altra metà delle volte proponeva la maggior parte delle volte i pazienti che non avevano mai preso un l'AI erano o neutrali o favorevoli mentre nel 37% erano negativi quindi vedete già noi ci togliamo il 50% delle possibilità perché non lo proponiamo noi quasi il 60% dei pazienti che non avevano mai preso un l'AI poi accettavano questo trattamento mentre gli psichiatri in realtà erano più preoccupati nel non inficiare secondo le loro assunzioni la relazione terapeutica o parlare degli effetti collaterali mentre i pazienti erano più preoccupati spesso i risultati di questo studio per l'iniezione in sé cioè una preoccupazione molto pratica la paura dell'iniezione e l'iniezione in sé in ogni caso l'ultimo studio che è ancora meglio di quelli che vi ho fatto vedere cioè la progressione della ricerca si vede anche quando noi andiamo a vedere storicamente tra passato e futuro che cosa la letteratura ci dice riguardo alle nostre attitudini questo studio canadese ha fatto le stesse cose ha registrato le conversazioni tra i pazienti e lo psichiatra però non solo le ha registrate e le ha trascritte ma le ha codificate attraverso un processo complesso che è quel processo che si utilizza negli studi di psicoterapia che cosa hanno fatto? quindi hanno trovato quattro aree importanti la prima era la consapevolezza cioè quanto un paziente o uno psichiatra sa rispetto all'AI la seconda erano le percezioni che cosa pensano la terza era legata a delle caratteristiche di controllo esterne e la quarta rispetto a una convenienza vado un po' veloce allora che cosa hanno visto? lo vediamo insieme hanno diviso questi autori l'hanno diviso tra quelle che sono le aspettative di un paziente che aveva una precedente esperienza con l'AI e quelle che sono invece quelle di un paziente che non ha mai avuto un'esperienza con l'AI che vedrete sono molto diverse allora quali sono i vantaggi che un paziente che prende un antipsicotico orale dice, sente, comunica allora prima di tutto questo non c'è bisogno di prendere una medicazione ogni giorno ci sono meno effetti collaterali è più facile per loro dicono che hanno un maggior senso di controllo hanno meno effetti collaterali e hanno una sintomatologia percepita che è diminuita alcuni sono contenti di alcuni effetti collaterali che sono la sedazione fastidiosa visibile dall'esterno è visibile dall'esterno la cosa interessante è quello che dicono perché questi autori questo articolo è molto interessante per chi ha tempo io consiglio di leggerlo perché hanno estrapolato alcune frasi che diversi pazienti ripetevano che rendono proprio l'idea anche della nostra pratica clinica e quello che dice un paziente diversi pazienti dice l'iniezione mi permette quasi di dimenticare che sono malato mentre la medicina è dentro il mio sangue costantemente io non devo pensare al fatto che sono malato ma posso pensare al fatto che mi posso dedicare al mio recovery posso stare meglio posso fare altre cose e questa è una sensazione bella che molti pazienti in questo studio hanno manifestato quali sono gli svantaggi percepiti dai pazienti che prendono un antipsicotico orale? beh, molto spesso trovano difficile avere l'appuntamento andare a lavoro questo soprattutto nelle grandi città loro devono venire quel giorno possono avere una finestra di qualche giorno ma hanno un appuntamento e quindi spesso per loro è un peso questo oppure per esempio hanno degli effetti collaterali subito dopo l'iniezione e poi spesso giusto prima di fare l'altra iniezione sentono un po' che l'effetto sta andando via sta svanendo e quindi questi sono i loro svantaggi ma quali sono invece le percezioni di un paziente che non ha mai preso un LAI beh, allora gli vantaggi sono che è più sicuro che può aiutare in alcuni effetti collaterali che non hanno bisogno di prendere le pillole e che per le persone un po' smemorate sicuramente è un vantaggio poi gli svantaggi sono sicuramente il fatto che loro lo vedono i pazienti che non prendono un LAI vedono questa assunzione dell'antipsicotico per iniezione come quasi una costrizione quasi come se il loro psichiatra gli dice se sei una persona non affidabile si sentono trattati in questo modo e poi niente hanno delle altre percezioni come se non potessero controllare il dosaggio spesso quando assumono le pillole a volte loro hanno la sensazione che possono controllare la dose che stanno assumendo anche se seguono le nostre prescrizioni con la terapia iniettiva a volte loro hanno la sensazione che noi gli stiamo dando più una dose maggiore quindi hanno paura che cosa dicono gli psichiatri? e finisco che cosa dicono gli psichiatri? allora in questo gruppo di psichiatri canadesi bisogna premettere che anche loro vedete la maggior parte delle volte usavano antipsicotici orali e invece molto raramente utilizzavano antipsicotici long acting hanno dimostrato di avere tante percezioni e tante diciamo idee sugli antipsicotici prima di tutto la maggior parte dei psichiatri scusate non è abbastanza non ha abbastanza consapevolezza di tutte le potenzialità sia nel bene che nel male di questi long acting la seconda cosa è la più interessante poi arriverò subito alle conclusioni sono proprio le attitudini che abbiamo noi cioè i pensieri le sovrastrutture anche un po' i pregiudizi che noi psichiatri abbiamo e quali sono stati identificati in questo studio? beh sono questi allora prima di tutto il paziente noi psichiatri abbiamo paura che il paziente si senta controllato o che senta la terapia iniettiva come eccessivamente intrusiva in realtà gli studi precedenti ci hanno detto che non è così per la maggior parte dei pazienti soprattutto nei pazienti che sono già in trattamento poi un altro pregiudizio dei noi psichiatri è che è difficile convincere uno psichiatra a prendere un live ma abbiamo visto che in realtà noi rinunciamo già dall'inizio cioè non glielo proponiamo nemmeno nonostante le linee guida ci dicano che glielo possiamo proporre quindi nel 50% non glielo proponiamo nell'altra metà forse è difficile i pazienti possono avere un po' di paura nella puntura eccetera è vero ma nello stesso studio non l'ho riportato ma gli autori lo dicono che in effetti queste piccole resistenze molto pratiche legate alla paura dell'iniezione vengono spesso vinte nel corso della discussione tra il paziente e il medico grazie a una spiegazione più approfondita del medico e grazie al fatto che il paziente si fida quindi ha una buona alleanza terapeutica col suo medico e poi un'altra è che in realtà gli psichiatri abbiamo paura di dare un messaggio sbagliato al nostro paziente cioè abbiamo paura di offenderlo dicendogli che appunto non è affidabile ed in effetti questa è una paura che si è rivelata essere comune sia tra gli psichiatri che tra i pazienti quindi in realtà quello che io salto perché sono un po' irritato quindi arrivo alle conclusioni quindi in realtà quello che noi dobbiamo fare o che possiamo fare per capire e per aumentare la nostra esperienza clinica con questi farmaci è ridurre lo stigma ma lo stigma parte dagli psichiatri abbiamo visto negli studi e quindi che cosa succede in conclusione ancora nel 2018 vengono pubblicati queste revisioni cioè come facciamo a ridurre lo stigma non tanto dei pazienti ma quanto veramente di noi psichiatri rispetto all'utilizzo nella schizofrenia o anche in altre patologie dei farmaci long acting di seconda generazione beh questi autori ci dicono sicuramente le evidenze dobbiamo essere prudenti come dicevo prima noi clinici leggiamo la letteratura scientifica e sappiamo che è una letteratura scientifica rigorosa ma che ha dei limiti e poi in realtà dobbiamo vincere il nostro scetticismo sia i pazienti che soprattutto noi psichiatri dobbiamo smettere di pensare che il long acting sia legato allo stigma o alla costrizione o alla mancanza di fiducia eccetera perché abbiamo visto che ci sono diversi cluster di pazienti che potrebbero essere dei potenziali candidati per un long acting e poi sì le autori ci consigliano beh è bene fare sicuramente parlare di più cioè coinvolgere di più il paziente nelle nostre decisioni terapeutiche dare più informazione informarci di più noi e soprattutto vincere i nostri pregiudizi quindi io ho concluso vi lascio con questo che esiste ne abbiamo parlato ma nessuno l'aveva visto è il nostro manuale di psichiatria forense che speriamo l'APCIN possa stampare per il convegno di Firenze della SIP e per questo volevo spendere una parola se posso a ringraziare lo so che mio padre mi vorrebbe interrompere ma zittire un nivoli è difficile anche se è uno stesso nivoli che ci prova per cui non ci riuscirà volevo ringraziare lui perché questo è il frutto del suo lavoro trentennale quarantennale che ci ha insegnato che ci insegna tutti i giorni e qui se vogliamo vincere i pregiudizi ecco questo è un buon allenamento ve lo assicuro volevo ringraziare la professoressa Loreto il nostro direttore perché senza di lei veramente niente sarebbe possibile nel congresso nel master nella clinica e la prima che arriva in clinica è l'ultima che se ne va quindi veramente io la ringrazio anche perché quando va a casa fa dei disastri si fa male distrugge il cancello insomma adesso le faremo una stanzina in clinica così è meglio vorrei ringraziare il dottor Paolo Milia che tutto quest'anno senza di lui lo stesso non è possibile perché scrivere un libro in una clinica psichiatrica dove ci sono milioni di cose da fare vuol dire che c'è qualcuno che deve fare le milioni di cose da fare oltre che scrivere il libro Paolo ogni mattina veniva e mi diceva caffè togli il libro a tuo padre se no non ce lo pubblicheranno mai cosa ha detto la Picin quindi io lo ringrazio anche per questo e vorrei ringraziare tutta la clinica gli infermieri gli specializzanti Cristiano De Palmas e niente vi ringrazio per questo vi darò e noi e noi ringraziamo te Alessandra oltre che per la tua bravura anche per la tua capacità di adattamento alle condizioni avverse e non è da tutti riuscire ad andare avanti e come hai saputo fare tu e presentare il tuo studio e vorrei aggiungere un paio di considerazioni velocissime se me lo consentite Liana dice di sì lo faccio la prima è stata già in qualche modo accennata è quello che alcune regioni sappiamo danno delle indicazioni sulla base di discutibili ecco concetti di economia sanitaria di non prescrivere questi farmaci questo può essere per noi un grosso handicap che va al di là ecco di quello che possono essere le motivazioni cliniche di ciascuno di noi la seconda considerazione mi nasce dall'osservazione recente di alcuni pazienti visti in libera professione che mi arrivano devastati dagli antipsicotici di prima generazione con dei sintomi giovani parlo pazienti giovani in condizioni veramente di grossa sofferenza l'ultima viene da quello che diceva Alessandra professoressa Nivoli circa il paziente che non si sente paziente che si sente in grado di poter affrontare il suo percorso terapeutico e questo mi è venuto in mente da osservazioni che ho avuto di recente in vicinanza con i cardiologi e con gli oncologi che si stanno sempre più occupando della qualità della vita e dove l'uso dei farmaci oncologici comincia a tenere conto del lungo periodo di somministrazione delle terapie e dell'alleanza terapeutica fondamentale per la risoluzione di questi problemi ai nostri pazienti come mi ha detto un oncologo dice noi ci occupiamo di cronicità come voi questo è vero quindi puntiamo a questo grazie a tutti passo la parola ok allora a me il compito invece di presentare un altro amico che è Guido di Sciascio che rispetto all'anno scorso di nuovo possiamo dire di lui che è il nuovo segretario della società italiana di psichiatria da ottobre e che ci parlerà di un argomento interessante che è il recupero funzionale nel paziente depresso generalmente tendiamo a occuparci del recupero funzionale delle psicosi delle patologie più gravi e di meno della depressione soprattutto quando resistono invece sintomi anche sotto soglia che sappiamo invece oltre essere un fattore di ricaduta frequente nella malattia oltre anche di compromissione del funzionamento prego Guido grazie Emi grazie a tutti buongiorno io prima di iniziare in premessa voglio veramente fare i complimenti ad Alessandra perché come ha detto Emilia Pocanzi cioè non è facile io ho fatto più di mille presentazioni penso nella mia vita ma mi sarei fermato di fronte a un evento del genere invece lei è riuscita non solo ad andare avanti ma a riempire di contenuti naturalmente la presentazione in assenza di un supporto che in certi momenti è indispensabile mi ha ricordato quando si usavano le diapositive il carussell ti ricordi che a un certo punto stavi dicendo una bella cosa e usciva quella rovesciata non ci capivi più niente bisognava spostarla e questa è un'altra storia quindi va bene l'altra cosa che devo dire è che quella presentazione che sto per fare è una presentazione supportata all'industria e quindi per disclosure va detto che questa è una relazione che viene sostenuta da Lundbeck per cui io vi parlerò di evidenze nuove relative in particolare alla vortioxetina che è il farmaco prodotto dalla Lundbeck terza cosa che voglio dire è che l'anno 21 la sponsorizzazione la chiediamo anche all'Enel perché potrebbe anche essere utile avere un supporto di questo genere in queste occasioni va bene bando alle ciance allora l'argomento che affronto appunto è quello del recupero funzionale nel paziente depresso parlandovi in questo senso di quelle che possono essere nuove evidenze che soprattutto tutto l'impiego di vortioxetina ha dimostrato di avere questa è una slide molto generale che fa vedere una cosa fondamentale cioè che noi tutto sommato tendiamo a complicarci la vita nel nostro mestiere per cui se fino a qualche anno fa ci bastava che i pazienti in qualche modo rispondessero in qualche misura al trattamento che gli veniva proposto che quindi avessero in qualche modo una riduzione significativa dei principali sintomi che fanno parte del core della depressione naturalmente adesso invece noi ce la complichiamo ce la siamo complicata cercando di trovare all'interno di quelli che sono gli obiettivi terapeutici che andiamo a ricercare cose molto più ambiziose a partire dalla rimissione dei sintomi ma soprattutto come appunto oggi si dice da più parti andiamo verso il functional recovery che significa il recupero completo dal punto di vista del funzionamento psicosociale che significa quindi non soltanto non avere i sintomi della malattia depressiva cosa che si può ragionevolmente supporre di ottenere anche dopo alcune settimane di trattamento con un farmaco responsivo ma dobbiamo cercare di ottenere quel recupero funzionale complessivo di una persona cioè che torna a una vita come dire precedente a quella dell'insorgenza della malattia depressiva e la cosa non è come dire semplicissima no così la depressione maggiore ovviamente non ve lo sto a spiegare ma è una patologia complessa è una patologia che naturalmente richiama quantomeno tre grandi cluster di sintomi che sono ovviamente quelli emotivi perché quelli sono ineludibili per fare la diagnosi di malattia depressiva quindi la presenza del disturbo dell'umore è essenziale ma oggi noi parliamo molto di più di quelli che sono gli aspetti della cognitività e quindi disturbi della concentrazione della memoria e quant'altro e anche di sintomatologia fisica che da qualche anno a questa parte comincia ad accompagnare in modo significativo la nostra non solo la nostra attenzione al trattamento ma anche a quelli che sono gli obiettivi terapeutici della cura stessa qui ne sono citati alcuni tra i più frequenti ma se ne potrebbero trovare molti altri allora venendo a quello che è l'effetto dei trattamenti che noi oggi mettiamo in campo che cosa possiamo dire di Vortoxidin Vortoxidin è un farmaco relativamente giovane nel senso che è giunto alla nostra possibilità di impiegarlo da pochi anni a questa parte quindi la numerosità dei casi e anche l'esperienza che ciascuno di noi ha sullo specifico farmaco probabilmente è inferiore rispetto ad altri trattamenti usati in passato come ovvio che sia per ragioni come dire meramente anagrafiche di fatto è un farmaco che ha che è giunto diciamo alla commercializzazione già con un grande bagaglio esperienziale tra i desumibili dagli studi che erano stati effettuati in precedenza e che poi ci torno dopo su questo aspetto che è un fatto non comune nella storia diciamo così dell'immissione in commercio dei farmaci soprattutto antidepressivi all'interno di una metanalisi che come vedete raccoglie tantissimi studi a breve termine in questo caso andando a valutare quello che è l'efficacia quindi l'effetto diretto del farmaco a varie dosi sui sintomi principali della malattia che sono quelli racchiusi all'interno della scala Montgomery Asberg si vede una cosa abbastanza chiara e cioè che a dosi soprattutto più alte quindi parliamo dei 20 milligrammi la vortoxetina dimostra di essere decisamente efficace nella riduzione dell'impatto sintomatologico di tutti i sintomi classicamente descritti all'interno della scala Montgomery Asberg per definire il quadro di malattia depressiva la vortoxetina ha una come dire grande mole di dati di riferimento anche in confronto non solo al placebo come erano i studi derivanti dalla precedente slide ma anche nei confronti di comparatori attivi e questa è una cosa importante naturalmente perché informa di più la pratica clinica evidentemente visto che noi confrontiamo l'effetto dei nostri farmaci non dando il placebo ad altri ma valutandolo rispetto a quello che fanno rispetto ad altri composti attivi questo è uno dei tanti studi l'ho scelto anche perché è interessante che vada a confrontarsi contro un farmaco anche quello di nuova generazione che ha una dimostrata efficacia evidentemente nell'ambito del trattamento della malattia depressiva del disturbo depressivo maggiore in questo studio si evidenzia il fatto che comunque la vortoxetina dimostri un'efficacia a una dose bassa perché questo è interessante capire qui noi stiamo usando vortoxetina a 10 mg quindi una dose intermedia diciamo così contro una dose invece significativamente attiva di velafaxina cioè 150 mg la differenza è irrilevante cioè nel senso che entrambi i farmaci sono ugualmente efficaci e soprattutto hanno come vedete un percorso diciamo così di riduzione della scala Montgomery-Hasberg praticamente con due curve decisamente sovrapponibili quindi in qualche modo da questo punto di vista non c'è differenza ma è un fatto positivo nel senso che dimostra che anche a basse dosi è efficace quanto una dose medio alta di velafaxina altra cosa interessante di questo farmaco questo è uno studio molto recente meno di un anno fa è uscito in cui si va a valutare l'effetto della voltoxetina sulla performance cognitiva questa è una cosa sulla quale io personalmente ho avuto delle opinioni anche per certi versi divergenti con un certo modo di introdurre questo composto nel nostro paese cioè puntare inizialmente troppo a mio modo di vedere sugli aspetti di controllo della discognitività piuttosto che sottolineare invece l'effetto sulla depressione poi il fatto che abbia anche una buona effetto sulla performance cognitiva è un valore aggiunto ma non è un valore base per la valutazione di questo composto questo è un farmaco potentemente antidepressivo che poi ha al suo interno anche la capacità di lavorare in modo efficace su questi aspetti di discognitività che sono particolarmente rilevanti in alcune specifiche popolazioni che noi trattiamo che non sono gli anziani come inizialmente si parlava ma sono soprattutto le persone attive dal punto di vista cognitivo cioè sono le persone in questo caso i working patients sono le persone che hanno un'età diciamo giovani adulti che sono in condizioni di lavorare e che la depressione impedisce loro di fare e che invece proprio perché l'effetto sulla cognitività che viene restituito gli permette non solo di tornare al lavoro ma anche di essere nuovamente performanti come lo erano precedentemente e questo effetto descritto da vortioxetina in alcuni studi è anche molto molto robusto questo è uno studio di confronto con pazienti che assumevano paroxetina farmaco egregiamente considerato un ottimo antidepressivo che come vedete dal punto di vista della Montgomery Asb che c'è sulla capacità di rispondere sui sintomi sono sovrapponibili ma sull'aspetto misurato dalla FAST che è una scala che misura l'effetto sulla cognitività c'è un significativo vantaggio da parte di vortioxetina rispetto alla paroxetina e questo non è un fattore di secondo piano soprattutto quando parliamo di in questo caso pazienti lavoratori cioè quindi gente che deve comunque rientrare al lavoro in condizioni di funzionamento cognitivo buono altra cosa interessante della vortioxetina secondo me che recupera un po' quello che noi abbiamo avuto come abitudine nella almeno per quelli un poco più anziani diciamo così che hanno avuto come esperienza l'uso dei triciclici è quello di vedere come l'aumento della dose di un antidepressivo permette di reclutare maggiori risposte nei pazienti che vengono trattati per intenderci tutti quelli che hanno lavorato con gli SSRI sanno che gli SSRI io dico sono dei farmaci a dosi cioè tu hai quel dosaggio che se funziona va e funziona ma poi se aumenti le dosi difficilmente hai un vantaggio importante dal punto di vista dell'aumento di risposte questo se voi ci pensate è un fatto abbastanza comune se voi usate la paroxetina al di là dei 40 mg cioè è difficile che aggiungete grandi quantità di risposte a quelle che avete che sono ottenibili a 40 e stessa cosa vale per i 100 mg di sertralina o quant'altro con i triciclici noi avevamo un altro tipo di esperienza altro è trattare con clomipramina 75 mg altri darne 300 cioè cambia completamente la fetta di pazienti che diventano responder quando aumenti le dosi questo è un concetto che grazie all'uso degli SSRI è andato un po' perdendosi anche nelle giovani generazioni di psichiatri questo farmaco permette di recuperare questo aspetto che secondo me è molto importante cioè al crescere della dose noi riusciamo a ottenere dei vantaggi differenti rispetto a quelli che abbiamo ottenuto con una dose inferiore questo detto tra noi questo è un ECM e io non posso andare al di là delle schede tecniche la vortoxetina ha come sapete in scheda tecnica un limite di 20 mg che è derivante ovviamente dagli studi clinici controllati nella mia esperienza e penso quella di qualche altro collega abbiamo anche provato ad andare oltre i 20 mg e effettivamente questo è un farmaco che in quelle dosi in alcuni ovviamente selezionati pazienti possono determinare effetti ancora crescanti ancora migliori e quindi reclutare ulteriori popolazioni di pazienti apparentemente scarsamente responsivi a dosi più bassi e veniamo ad un altro aspetto interessante questo io non è che ami a morire le meta analisi però questo lo devo far vedere questo studio intanto perché è uno studio recente uno studio lo scorso anno è uno studio fatto da un gruppo che a tutti noto capeggiato in questo caso come primo nome da Andrea Cipriani ma è un gruppo che mette insieme GEDES e quant'altro li vedete scritti là tutti gli autori e questo è un gruppo che come voi sapete da alcuni anni fa produce dei lavori interessanti che riguardano la valutazione meta analitica ma anche attraverso una cosa complicatissima che è la network meta analisi che permette di fare dei confronti rispetto ai dati derivanti dagli studi clinici naturalmente in termini di efficacia e tollerabilità dei farmaci che noi utilizziamo in questo caso diversamente da quello che è stato fatto nella precedente edizione di questo lavoro questo gruppo ha messo insieme per vedere l'efficacia e la tollerabilità chiamata in questo caso accettabilità che è un concetto che mette insieme la tollerabilità e l'adesione alle cure mette insieme 21 antidepressivi quindi non soltanto quelli di ultima generazione ma anche per esempio i triciclici che vedrete all'interno di questo studio per capire se ci sono delle differenze significative da questo punto di vista quindi gli obiettivi naturalmente sono quelli di valutare sia l'efficacia che l'accettabilità dei vari trattamenti se vedete il lavoro è descritto anche da un punto di vista della metodologia ci vuole la laurea in matematica secondo me per capire però detto questo ci sono delle cose che sono interessanti allora in alto a sinistra c'è il dato sulla efficacia in basso a destra quello sulla tollerabilità la grandezza delle palle non è legata alla noia che hanno determinato ma è semplicemente il fatto che la quantità di pazienti arruolati nei vari studi ingrandisce il volume della sfera di riferimento per cui evidentemente placebo essendo studi controllati contro il placebo ha una palla molto grande perché arruola moltissimi pazienti e vedete che per esempio tra i farmaci che hanno avuto più pazienti arruolati negli studi ci sono per esempio paroxetina e fluoxetina e non è un caso perché come voi sapete negli anni 50-60 non si facevano studi controllati che arruolavano grandissimi numeri di pazienti la clomipramina che vedete in alto c'è una pallina piccola perché c'è pochissimi pazienti pur sapendo che è un farmaco straordinariamente efficace in molte situazioni eppure c'è pochissimi pazienti arruolati nei studi clinici controllati cioè quindi quelli che venivano inseriti nello studio mentre i farmaci più recenti hanno dei numeri molto grossi e la cosa interessante è che questo studio pubblicato 2018 quindi elaborato 2017 c'ha già una importante diciamo quantità di farmaci all'interno della bortioxetina cioè ancora prima quasi di andare in commercio c'era già una grande esperienza di impiego di questo composto che quindi arriva alla commercializzazione già con un bagaglio esperienziale molto importante e la cosa più interessante è proprio questo che quando fanno poi il confronto diretto usando ovviamente gli assi cartesiani per valutare qual è il migliore diciamo così quello che si installa al primo posto in modo assolutamente secondo me sorprendente questo non è uno studio sponsorizzato è uno studio completamente indipendente vede al primo posto il numero 21 che nella leggenda è esattamente la bortioxetina che è nettamente il migliore dal punto di vista di quelli che sono i parametri della valutazione della network meta-analisi sia sul piano dell'accettabilità che sul piano dell'efficacia questo è sicuramente un dato di grande interesse l'ultimo posto lo dico così come maglia nera e il numero 16 che è la reboxetina che molti di voi ricorderanno almeno quelli come dire non di freschissima esperienza perché è un farmaco che noi abbiamo impiegato in epoca fine anni 80 inizio anni 90 perché sembrava una rivoluzione rispetto agli SSRI essendo un noradrenergico puro quindi era selettivo solo per la noradrenalina e non toccava la serotonina che era invece di gran moda in quel periodo degli SSRI ebbene la reboxetina è un farmaco che per chi se lo ricorda di averlo impiegato dava dei grossissimi problemi in termini di tollerabilità quindi non ho dubbi che si vada a collocare in una posizione piuttosto scarsa detto questo vado agli altri aspetti di vortioxetina che sono stati diciamo così sottolineati anche dalla letteratura molto recente ancora una volta questo è uno studio del 2018 in cui vortioxetina si misura sulla efficacia rispetto ai sintomi fisici della depressione come dicevo nelle premesse sono un altro aspetto ormai core della malattia depressiva è un altro aspetto sul quale è necessario intervenire per molti dei nostri pazienti e qui vedete viene usata la Hamilton che ha al suo interno vari item che riguardano i sintomi fisici che sono quelli indicati sotto naturalmente e vedete che c'è un importante impatto del farmaco vortioxetina in questo caso nel trattamento a breve termine sulla sintomatologia fisica che sembra migliorare in gran parte dei casi tranne in alcuni sintomi che non c'è una significatività statistica torniamo un attimo sugli aspetti della cognitività anche per citare uno studio recentissimo anche questo è uscito meno di un anno fa e anche in questo caso è una network meta-analisi perché ovviamente riguarda moltissimi casi arruolati e va a vedere usando il DSST cioè il DigiSymbol Substitution Test che è un test molto comune nella valutazione dei fenomeni cognitivi per vedere se appunto c'è un effetto della vortioxetina ancora una volta qui c'è un confronto anche con altri farmaci con altre classi di farmaci quindi SNRI SSRI IMAO e Triciclici c'è una differenza molto importante a favore della vortioxetina che da questo punto di vista sembra essere veramente un valore aggiunto rispetto a tutti gli altri farmaci antidepressivi che abbiamo avuto per le mani negli anni che quindi dimostra che su questo aspetto effettivamente potrebbe essere un valore aggiunto nettamente superiore a quello che altri composti potrebbero darci quindi come dire varrebbe la pena di spenderla in situazioni nelle quali cerchiamo un effetto sulla componente cognitiva cosa che viene ulteriormente dimostrata ancora una volta 2018 uno studio recente su pazienti ancora una volta in termini di work productivity cioè pazienti quindi attivi pazienti che lavorano per vedere se questo farmaco in effetti migliora da questo punto di vista ancora una volta vedete ci sono dei vantaggi importanti su tutta una serie di aspetti che non sono soltanto la sintomatologia e la gravità della sintomatologia ma sono appunto la performance cognitiva la produttività lavorativa il funzionamento in senso in senso globale il discorso appunto si focalizza ancora una volta sull'aspetto del funzionamento naturalmente e qui vedete che c'è un dato interessante che continua a essere confermato nel tempo che è quello che vortoxetina funziona in modo efficace e non soltanto nel breve periodo naturalmente come dimostrato da alcuni studi ma anche quando il trattamento viene protratto nel tempo quindi qui vedete fino a 52 settimane il miglioramento persiste e si mantiene nel tempo ultima parte che voglio toccare è quello della sicurezza perché è chiaro che quando noi oggi parliamo di trattamenti anche a lungo termine non possiamo ovviamente fare a meno di ragionare anche in termini non solo di efficacia ma di sicurezza delle cure la vortoxetina è un farmaco che è stato largamente studiato prima ancora della commercializzazione su questi aspetti di sicurezza e di tolerabilità vi risparmio una serie di dati numerici che si compaiono in tutti gli studi semplicemente per dirvi che ci sono alcuni effetti collaterali che in altri farmaci come gli SNRI di confronto in questo caso sono molto rappresentati che nell'ambito della vortoxetina sono nettamente inferiori uno si staglia più degli altri vedete qui che è l'effetto sulla nausea certamente la nausea è l'evento più frequente e quasi onnipresente nei pazienti che assumono questo composto la cosa interessante è che differentemente da quello che può succedere per esempio con gli SNRI nei quali è raro che si autolimiti nel tempo ma tendi a mantenersi con vortoxetina si osserva in genere una riduzione spontanea dopo le prime due o tre settimane di trattamento questo nella gran parte dei casi naturalmente poi come al solito ci sono sempre le situazioni specifiche dei casi singoli nei quali questo magari potrebbe non accadere ma nei grandi numeri questo accade è un farmaco molto sicuro dal punto di vista cardiovascolare questo sicuramente è una cosa importante interessante anche per tutto quello che noi oggi sappiamo rispetto al rischio di incremento del tratto QT dei farmaci non soltanto antipsicotici ma tutti i farmaci psicotropi in gran parte dei casi possono determinare questo tipo di fenomeno tant'è che le agenzie regolatorie ormai chiedono per l'emissione in commercio dei nuovi farmaci sempre lo studio FruQTC si chiama cioè in cui viene valutato anche il dato sulla sicurezza cardiovascolare e ovviamente la vortoxetina non si è sottratta a questa necessità e qui vedete c'è appunto un lavoro che si chiama FruQTC Stadi cioè il classico studio che va a valutare questo e si vede che appunto l'impatto è placebo-like come si dice in questi casi cioè non ci sono differenze rispetto al placebo disfunzione sessuale che è l'altro grande problema che ormai negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere col trattamento con gli SSRI un fenomeno di proporzioni in mani che viene praticamente a coinvolgere la stragrande maggioranza dei pazienti trattati con gli SSRI la vortoxetina da questo punto di vista non è esente da problemi in senso assoluto ma sicuramente sembra darne molti di meno rispetto a quello che è il quello che abbiamo imparato a vedere con gli SSRI cosa che peraltro è stata anche specificatamente studiata con uno studio che metodologicamente voglio dire può avere anche dei limiti direi etici in certe condizioni qui sono pazienti che avevano sviluppato delle disfunzioni sessuali che a prescindere dall'efficacia traibile dal trattamento con citalopram setaina e paroxetina vengono switchati a due bracci uno va in bortoxetina uno va in escitalopram e si vede che c'è un vantaggio dei pazienti che vengono trattati in bortoxetina nella riduzione di questa componente diciamo di disfunzione sessuale cosa che viene ulteriormente confermata anche da uno studio molto recente più che uno studio è un lavoro che ha messo insieme tutti i dati sull'assessment della sexual dysfunction quindi della disfunzione sessuale nel contesto della depressione quindi nei pazienti depressi che erano trattati con gli antidepressivi e qui si vede quella differenza in varie categorie rispetto ai farmaci e al loro effetto che hanno sulla funzione sessuale quindi ci sono la categoria A che sarebbero i farmaci che addirittura migliorano e quindi vedete farmaci ovviamente non antidepressivi tranne il bupropione che ovviamente non essendo serotoninergico ovviamente non dà problemi da questo punto di vista però vedete il tadalafil il vardenafil tutti i farmaci che aumentano la funzione sessuale poi ci sono quelli che invece non hanno un effetto significativo e tra questi appunto c'è la vortoxetina e poi ci sono altri farmaci come il trazodone per esempio e altri che non usiamo praticamente più o rischieremo di non usare mai penso alla Densbenlafaxina che in Italia penso non arrivi mai più ma per esempio agomelatina omoclobemide che abbiamo usato in passato e che ormai non usiamo quasi per niente e poi invece vedete farmaci che hanno un effetto significativo sul funzionamento sessuale e qua vedete tutta la sfilza dei farmaci SSRI concludo con la stessa slide che ho messo all'inizio semplicemente perché penso di aver come dire analizzato tutta la situazione che possa portare a completare il cerchio cioè il discorso è proviamo a vedere se questi nuovi trattamenti possono aiutarci effettivamente a raggiungere questo obiettivo che sicuramente è molto ambizioso e non è detto che si raggiunga semplicemente dando la porta i cittadini non sono così ingenuo da pensare questo però sicuramente è importante che il recupero funzionale completo di un paziente depresso passi ovviamente anche attraverso un trattamento efficace su alcune aree del funzionamento che sono assolutamente necessarie e con questo vi ringrazio grazie 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 un piccolo commento dico che è un farmaco che ha permesso io mi occupo di alcolismo da tanti anni anche nella nostra esperienza ci ha dato quella capacità ad esempio di ritrovare la resilienza nei pazienti perché le capacità cognitive come ben sapete nei pazienti alcolisti vengono per definizione a perdersi ecco un farmaco che noi abbiamo trovato maneggevole anche in questo in questo senso pertanto l'esperienza ci deve portare a continuare a perseguire poi per quanto riguarda anche il dosaggio noi stessi abbiamo visto proprio che il 20 mg fanno veramente la differenza grazie si adesso presentiamo il professor Brugnoli la sua relazione dal titolo il ruolo dell'aripiprazzolo longhectin nella continuità terapeutica bene grazie un attimo soltanto mezz'ora circa 25 25 facciamola subito la discussione grazie allora va bene intanto il ringraziamento più che ringraziamento insomma il piacere di essere ritornato dopo qualche anno di assenza quindi è un piacere essere di nuovo qui è quasi tautologico parlare di disclosure in questa relazione visto che appena comparirà il titolo vi renderete conto ma come spesso mi capita non so se è un bene o un male mi faccio prendere più da argomenti di ampio respiro e quindi più dell'argomento dei lai quindi mi ricollego in maniera abbastanza netta alla bella relazione di Alessandra che ci siamo non ci vediamo per lungo tempo e poi due venerdì di seguito ci si trova sempre qui in Sardegna allora invece che fare un elenco freddo di dati normalmente insomma si fa una sorta di elencazione di quelli che saranno i punti da trattare i punti da trattare li vediamo qua abbiamo a che fare con un disturbo ovviamente grave e drammatico una lifetime più o meno confermata oramai da tutti gli studi più o meno mondiali una malattia cronica purtroppo drammaticamente progressiva un'età di esordio che sia ancora più abbassata oggi c'è una diapositiva che molti facciamo vedere nei nostri contesti 15-25 anni ci giochiamo tutto il destino delle malattie psichiatriche è un esordio molto prematuro rispetto a quando abbiamo iniziato chi come i miei capelli bianchi vivevamo in maniera abbastanza serena l'idea della schizofrenia che arrivava 20-25 anni abbiamo vissuto il DSM3 che ci parlava anche della schizofrenia di esordio tardivo 40 anni eccetera e i disturbi dell'umore arrivavano nella terza decada vivevamo sereni oggi fra i 15-25 anni ci giochiamo drammaticamente l'inizio di tutte le malattie psichiatriche e oggi anche quella separazione ma non è questo il contesto fra la neuropsichiatria dell'adulto e la neuropsichiatria dei bambini e la psichiatria dell'adulto devo dire fa un po' sorridere oggi immaginare che un 15enne bipolare con un esordio grave accelerato dai farmaci in qualche caso accelerato dalle sostanze debba aspettare i 17 anni 11 mesi per poter essere preso in carica perché magari il contesto è ancora un contesto in cui c'è una sorta di polemica se non qualcosa di più fra gli psichiatri dell'adulto e quello dei bambini rischia veramente di far perdere veramente momenti assolutamente importanti per il destino di questi bambini adolescenti funzionamento globale del paziente come diceva giustamente prima Alessandra non si può più mirare soltanto al qui ed ora non ci si può preoccupare soltanto della riduzione della sintomatologia acuta di un paziente all'esordio ma il progetto a lungo termine quelli che si chiamano gli outcome distali sono le cose più importanti curiamo oggi un 19enne un 20enne tentando di capire o di poterlo aiutare a far sì che dopo 20 anni non abbia coronato il suo sogno soltanto quello della pensione con l'accompagno che in qualche contesto rappresenta l'epilogo abbiamo preso quello e fortunatamente un piccolo stipendiuccio che aiuta in tante famiglie 65-70 75% dei pazienti un anno e mezzo dopo aver iniziato a curarsi hanno smesso di farlo e ricadono è inutile che qui dentro pensando fra noi no ma i miei no i miei pazienti sono fedelizzati i miei si curano lo so che si curano il 75-80% è una realtà statisticamente confermata in tutto il mondo si fa riferimento al fatto che il 30% dei pazienti smettano di curarsi entro tre mesi e esistono dati riportati in letteratura di non aderenza istantanea vuol dire che il paziente esce dallo studio esce dall'ospedale con una ricetta la ricetta viene strappata il paziente non si inizia a curare già dal primo giorno dopo la dimissione questo per dire il problema annoso e quindi si realizza questa è una delle tante immagini che però in maniera assolutamente sintetica ci dà l'idea di che cosa succeda nella storia di questo paziente che inizia la sua carriera di malato a 18 anni a 17 a 20 a 21 anni e chiaramente non finisce più la schizofrenia non si cura in maniera definitiva come si può curare anche un tumore molto grave che si è fortunati si è scinde si fa la chemioterapia e dopo 5 anni l'oncologo dice complimenti non la voglio più vedere perché l'è guarito non è questo è una malattia che quando esordisce c'è che poi si accompagna in molte forme più aggressive meno aggressive eccetera eccetera ma rimane il fatto che quando c'è il crollo schizofrenico chiaramente non c'è più una restituzia di integrum intesa nel senso di quello che fra medici ci capiamo ma il problema è che si può accompagnare in questa malattia devastante cronica il paziente molto meglio di quello che si faceva qualche tempo fa quell'immaginette sotto che fanno in teoria dovrebbero dare l'idea della sofferenza del cervello credo parlo sempre della mia generazione che ci siamo formati ci avevano detto ci dicevamo che le malattie psichiatriche fossero malattie del software dice quello è presente il sistema operativo che non funziona l'hardware lasciamo ai neurologi con le loro epilessie con le loro malattie degenerative oggi lo sappiamo la nostra malattia le nostre malattie iniziano nella pancia della mamma si creano i presupposti per cui il paziente sia meglio tragico poi non tutti diventano schizofrenici ma se vivono in contesti culturali di un certo tipo in popolazioni sovraffollate se il convidato di pietra che è sempre presente oramai cioè l'abuso di sostanze incombe nella storia di quel paziente quel paziente che era solo meglio tragico diventa malato ed esplode la malattia ok sono dati li ho messi così in rapida successione oramai lo sappiamo i nostri farmaci questi farmaci di nuova generazione che io chiamo con mozione d'ordine lai chiamando depo quelli così old fashion quelli datati quando parliamo di quelli nuovi è quasi tautologico dire i lai di nuova generazione ci capiamo intendiamo quelli nuovi migliorano l'aderenza e riducono l'ospedalizzazione alzi la mano chi ha il coraggio di dire che non è vero credo che siamo tutti abbastanza d'accordo però il problema non è soltanto il fatto che il paziente è più fidelizzato il paziente viene più controllato il paziente se si instara un buon rapporto vive serenamente la venuta una volta al mese una volta ogni tre mesi eccetera eccetera secondo con altre formulazioni di farmaci da noi per lo meno per fare la puntura poi questo non vuol dire che il paziente non venga visto sistematicamente ma c'è anche questo problema questa se questo rosso ecco questa area di zona di conforto questa comfort zone che sarebbe l'area nella quale il farmaco si colloca senza andare sopra o senza andare sotto Paolo Girardi col quale lavoro insomma ho lavorato per tanto tempo lo chiama a dente di sega a dente di squalo ci capiamo questo è quello che succede con i farmaci pronti i farmaci sono momenti in cui vanno al di sopra e sono tossici potenzialmente al di sotto e non fanno quello che dovrebbero fare con questa classe di farmaci e parlo dei là in generale poi alcuni funzionano in un certo modo altri in altri ma fortunatamente sono accumulati dal fatto che dopo 4 mesi dopo 3-4 mesi al raggiungimento dello steady state si vanno a collocare in questa area di conforto senza mai avere picchi né in un senso né nell'altro vi siete mai chiesti facendo riferimento ad esempio a questo tipo di farmaco all'aripiprazzolo ma in tena per quale motivo molti nostri pazienti piuttosto gravi che prendono 30 mg li shiftiamo al longectin e dopo 3-4 mesi hanno raggiunto una stabilità con un dosaggio di farmaco che è quasi inferiore ai 20 si muove sui 19-20 mg il motivo c'è perché questa stabilità non gli fa avere picchi e quindi ci permette di avere dosaggi più bassi costanti e ritmati nel tempo siamo cresciuti come età con il farmaco depo ultima spiaggia quel paziente non viene chi va a casa troviamo un infermiere che va a casa a fargli un moditem nella mia storia di quella di persone ripeto non più giovani ho incontrato pazienti che prendevano 3 moditem al mese 3 ogni 10 giorni un moditem raggiungendo dei livelli di settimo livello ma comunque seconda linea oggi oggi sappiamo e ogni giorno arrivano dati in continuazione se uno si fa una medline ogni 20 giorni trova perlomeno 10 lavori che da tutto il mondo confermano questo tanto che alla fine non sono nemmeno più particolarmente originali lavori che ci dicono che i lai tutti quanti migliorano l'aderenza eccetera ma è proprio un progetto nel lungo termine bisognerebbe cambiare l'atteggiamento culturale tanto non ci offendiamo siamo tutti psichiatri qui dentro noi siamo un po' elefanteschi nel recepire i cambiamenti prima mi ha fatto sorridere che Guido ha citato il bupropione vi ricordate il bupropione è stato immesso sul mercato perché doveva agire sulla componente apatia eccetera sta quasi per uscire nel senso sta per uscire sta finendo la sua parabola e parli con colleghi che ancora cercano l'apatia dicendo ancora non ho provato quel farmaco perché non ho trovato il paziente giusto e cercano l'apatia come di oggi ne cercava l'uomo con la lanterna insomma di questa apatia senza rendersi conto che è un antidepressivo proviamolo proviamo e vediamo quello che succede questo è il discorso e qui se non cambia l'approccio culturale sono problemi se potessimo imparare dai cardiologi sapremmo questo un cardiologo ad una persona che si salva da un infarto gli dice mi raccomando un altro potrebbe essere fatale tutta la vita tutta la profilasse tutto ruota intorno abbassa il colesterolo abbassa la pressione dimagrisci ti conduce una vita più sana mangia più sano perché il secondo potrebbe essere fatale noi pensiamo che ogni nuovo episodio psicotico cioè non è che lo pensiamo ma non ci rendiamo conto di quanto sia drammatico e di quanto le malattie nostre che ogni tanto mi capita di parlare in giro e qualcuno dice ah questa l'hai già detta d'accordo l'ho detta ma la ripeto le nostre malattie sono patoplastiche ogni nuovo episodio rende più complicato mettere mano a quello successivo la nostra vita professionale è costellata di pazienti che rispondono benissimo al primo farm poi hanno una rigaduta al secondo episodio non rispondono bene quel dosaggio che aveva fatto miracoli sei mesi un anno prima non fa miracoli un anno dopo e si entra in uno stato di allarme anche da parte nostra e quindi questa è un'immagine molto bella che è praticamente un concentrato di informazioni sulla schizofrenia ma quel l'hai l'ho messo io lì nel senso che l'ho un po' falsificata intendo dire i l'hai andrebbero usati in maniera precoce e quello è il punto del famoso FEP cioè del first episode psicotico cioè il primo episodio psicotico andrebbe in qualche modo velocemente gestito vado abbastanza veloce per non farmi riprendere questo lavoro purtroppo non si legge bene perché come diceva Pancheri in una diapositiva dovrebbero esserci massimo sette righe qui in realtà ce ne sono molto di più ma era una testatina di un lavoro una sorta di position paper fatto da grandi esperti di schizofrenia i quali nelle prime dieci righe dicono quello che più o meno dicevo io o meglio io ho detto quello che dicono loro e cioè che funzionano benissimo che impediscono le rigadute eccetera purtroppo ci sono un sacco di barriere all'utilizzo dell'ai una è quella che diceva Alessandra prima un po' di ignoranza da parte nostra non tutti li sanno adoperare io sentirmi dire o sentirmi chiamare dai colleghi che mi dicono senti voi che siete esperti ti posso mandare questo paziente così gli fa di l'ai è un piacere questo come dire il fatto che venga riconosciuta questa expertise ma dico ma perché non te la fai da solo nel senso talvolta ci sono cose di nicchia che può fare soltanto un laboratorio perché ce l'hai solo tu o sei fortunato questa non è una cosa visto che sei esperto ed è un processo di autoesclusione perché più continui a non farlo e più continui a non impratichirti e più continui a demandare ai famosi esperti che sarebbe qualcuno qui dentro siamo esperti siamo esperti solo perché uno si è preso la responsabilità perché due anni e mezzo fa abbiamo fatto il primo zippadera si può dire no non so si può dire insomma comunque il depo dell'olanzapina e tutto l'ospedale era paralizzato per la paura della PIS della post injection syndrome da farmaco e poi però abbiamo fatto la seconda poi abbiamo fatto la terza poi l'ansia si è abbattuta e poi è diventata una routine fino a che quando è diventata una routine abbiamo avuto una PIS molto seria però comunque insomma la cosa è rientrata ma per dire l'abbiamo fatta perché stava lì come fai a parlare nei posti se fai solo teoria e non hai visto con certezza che cosa succede e allora fra una delle cose che impedisce l'utilizzo è la scarsa attitudine verso i trattamenti e qui in maniera un po' provocatoria io ci ho scritto ma di chi? dei medici non dei pazienti questa è una sarbe di un po' di anni fa ai colleghi a nostri colleghi ai quali si chiedeva ma perché non prescrivete Ilai? basta e avanza l'orale 86% con una struttura diciamo megalomanica un po' narcisistica a me bastano quelli i miei pazienti si curano i miei li prendono i miei non li sputano sotto le poltroni i miei non è vero che buttano le pasticche sotto gli armadietti dell'ospedale i miei sì che sono fidelizzati quei miei quei tuoi quei suoi fanno parte di quel 75% di pazienti che dopo un anno e mezzo hanno smesso di curarsi perché è così il famoso studio Cati o Cati di qualche anno fa che ha gemmato centinaia di pubblicazioni si fondava fondamentalmente sul fatto che dopo un anno e mezzo di osservazione così in maniera proprio in plein air senza che ci fosse nessuno stimolo l'NMH americano aveva messo dentro una serie di pazienti e li seguiva come si segui in un normale ambulatorio venivano alle visite bene non venivano non fa niente era un'osservazione dopo un anno e mezzo l'80% dei pazienti erano ricaduti fu cavalcata dall'azienda in maniera più o meno intelligente che gli ultimi a cadere sotto i colpi della non aderenza erano quelli che prendevano la olanzapina e quindi si raccontò che l'olanzapina dava più aderenza ma insomma era una vittoria di birro scoprire che l'ultimo paziente quello prima che l'NMH chiudesse perché non c'era più nessuno erano tutti droppati l'ultimo prendeva questo quindi per dire numeri sistematicamente quindi l'orale non è vero non è vero che i pazienti non li vogliono il problema è che diceva giustamente Alessandra ci devi parlare devi convincere loro devi far presente ai genitori che una puntura non è un qualche cosa di più grave di una pasticca che due anni almeno sono i due anni drammatici dall'inizio della malattia poi devi andare in farmacia devi litigare sopra devi fartelo dare ti devi sentire dire ma come abbiamo i farmaci che costano 5 centesimi a pasticca le scatole da 2 euro e lei ci fa fare una puntura da 250 euro non vi dico che cosa è successo quando si è fatto riferimento al farmaco da trimestrale a tre vita 850 euro la farmacista ha bacillato poi gli spiegavi che era l'equivalente di una cura per tre mesi gli spiegavi che c'era un crollo dei ricoveri perché non ci sono revolving door con i pazienti che fanno questo tipo se non qualche caso limite quindi i pazienti lo vogliono i costi d'accordo e va bene questa l'ha già fatta vedere Alessandra e quindi ci risparmiamo ma era letta in quest'altra ottica cioè fondamentalmente gli psichiatri moderni cioè noi continuiamo a occuparci del fatto che è importante che un farmaco funzioni e abbia pochi effetti collaterali su quello che succede nel lungo termine su quanto possa essere riabilitante su quanto questo pazientino possa quando fuori dalla crisi ti guarda accorato e ti dice guarda che mi vorrei sposare anch'io lei ce l'ha una moglie mi farebbe piacere avere una casa mi farebbe avere un vero lavoro cioè gli outcome lontani nel tempo sono questi per i pazienti ed è chiaro siccome la collega diceva che ancora oggi vediamo dimessi dai posti pazienti che escono con 10 mg di alloperidolo die quando 3-4 mg fanno tutto quello che devono fare e normalmente lo devono fare per 20 giorni un mese un mese e mezzo per gestire una cuzie vengono dimessi pazienti giovani con 10 mg che te li vedi arrivare in ospedale o nello studio che sono delle statue di sale col tremore che li divore con questa face bloccata ragazzi di 20-25 anni ecco è questo quello che fa un po' male questa è una survey fatta sui pazienti ecco i pazienti questi dicono è inutile che ci perdiamo tempo ma insomma mi fa bene sono contento lo consiglierei a chiunque altro i miei familiari sono contenti non sento più le voci quello è un qualcosa di clinico ci entra fino a un certo punto mi sento molto meglio faccio l'edettività la comunicazione con gli altri è migliorata pazienti un gruppo croato di colleghi che ha raccolto queste informazioni collega Ballerini di Firenze è un amante di questi aspetti studia stress e pubblica un sacco di lavori non tanto l'aderenza sulla contentezza se mi si può dire il termine del paziente di fare questo e ci ha raccontato casi di pazienti che in sala d'attesa si sono detto scusa ma a me fanno la puntura perché non la fai fare pure te e pazienti che entravano dicono ma perché a me no e a loro si si arriva noi abbiamo anche avuto una specie di matrimonio una convivenza tra pazienti che aspetta oggi aspetta domani si sono conosciuti frequentati ti offro un caffè sì grazie ed è nata anche una sorta di cosa carina quindi siamo stati anche cupido in questo tipo di situazioni però sono molto poco utilizzati era già stato detto nicchia di nicchia nell'ambito di una terapia di nicchia perché chiaramente i lai ancora rappresentano nicchia i nuovi ne rappresentano ancora altri fortunatamente ci hanno tolto il modi d'endepo cioè fortunatamente dipende i nostalgici ci saranno rimasti male chi non è nostalgico dirà ok uno l'abbiamo tolto adesso abbiamo l'Aldol De Canoas qualche altro qualche altro così il Club Ventizzolo ma insomma diciamo fortunatamente stanno uscendo quelli di vecchia generazione si vengono addoperati molto poco un po' un tre quattro anni fa un gruppo di lavoro c'era Girardi un po' di persone che vedete ha in qualche modo provato a immaginare di poter portare in giro parlare più che altro di un progetto che questo MoMA MoMA non sta ovviamente anche se l'acronimo devo dire mi prendo il merito di averlo scelto io non è i bellissimi musei americani ma sta per Model of Management che non vuol dire addopera questo farmaco addopera quest'altro farmaco anzi ho anche saputo mi è stato detto ero partito da due ore che all'EPA recentemente a Praga durante un simposio questo modellino è stato citato quindi un collega straniero ha detto poi ci sono dei colleghi italiani che avevano proposto una cosa del genere perché non parlarne relativamente a niente di particolare a un flusso cioè questo è quello che normalmente succede in condizioni normali identificazione del paziente il paziente se per caso ha la sfortuna di avere 17 anni e 11 mesi inizia la tragedia di dove lo metto non lo metto una città come Roma ha 12 posti letto per sotto 18 anni 6 al bambino Gesù e 6 alla neuropsichiatria infantile ci aiuta molto Sergio De Filippis che conoscerete con la sua casa di cura convenzionata che ha 20 posti letto e quindi ogni tanto ci aiuta lui se ha quella sfortuna non sa dove iniziare quindi inizia lo sballottamento ricovero non ricovero negli SPDC non avendo l'età giusta eccetera eccetera si dà l'orale il paziente sa meglio smette di curarsi si riattualizza revolving doors se ha la sfortuna di cambiare ambiente è possibile io lo dico sempre se noi abbiamo la sfortuna di avere un infarto da Mazzara del Vallo a Brunico credo che in tre ore stiamo in UTIC più o meno tutti i colleghi ci fanno la sua fibrino lisi e speriamo di sfangarla se ti rompi una gamba in quattro ore più o meno una lastra te l'hanno fatta e si stabilisce se devi fare se hai un episodio psicotico se parte una malattia gravissima e devastante dipende pure in quale città in quale regione in quale paese questa diagnosi viene fatta perché se quel ragazzetto che era stato visto in un certo posto cambia il papà gli trasferiscono casa cambia ASL eccetera eccetera è possibile che si ricominci da capo quindi quando parliamo del famoso DUP detto alla romana duration of untreated psychosis questo periodo che passa da quando inizia la malattia a quando viene preso in carico bisogna pure vedere come viene preso in carico perché non è detto che la presa in carico realizzi il meglio per quel paziente questa è una realtà quindi questo è tutto quello che succede l'ipotesi era questo non si dice al primo giorno qualcuno ci accusa va bene adesso voi parlate voi andate in giro al primo giorno fate punture ma non è vero ma che vuol dire vuol dire quando si hanno abbastanza le idee chiare nessuno fa un lie ad un pazientino con un episodio psicotico e ti raccontano che nella storia è un ingegnere nucleare che è stato 24 ore a un rave e si è preso tante pasticche e quindi da dieci giorni c'è un episodio psicotico beh insomma uno un atteggiamento attendistico ma se metti insieme quattro soldi di storia ti fai raccontare la storia e capisce che cosa è individui se questo è un paziente che purtroppo ha preso quella strada e allora l'ipotesi di immaginare che per la gestione dei famosi due anni cioè quei due anni che tutta la comunità scientifica stabilisce come gli anni più a rischio per il destino di questo paziente in quei due anni la stabilità che un lie può dare io parlo di lie in generale che noi parliamo ovviamente nel caso specifico di arepiprazolo perché si presta per una sua maneggevolezza per un certa modalità non aggressiva va bene tutto ma io in teoria faccio mente locale all'idea della classe farmacologica cioè bloccare il paziente per almeno due anni non fargli avere rigadute e immaginare per lui anche un destino chiaramente migliore di quello che potrebbe esserci se lo riempiamo con i nostri aloperidoli lo dico al plurale tanto per capirsi leggendo un po' di letteratura mi è capitato fra le mani di vedere dei lavori in cui si faceva riferimento all'utilizzo di 100 milligrammi di IE di aloperidolo 100 milligrammi di IE ok bottiglietta la mattina e bottiglietta la sera così togliendo anche il dispenser evitando di contare le 1000 o le 2000 gocce è chiaro che quella ipotesi farebbe partire questo progetto cioè farebbe partire l'idea che tutto quello che è la prevenzione del danno neurotossico non ci dimentichiamo allora alzi la mano chi negli ultimi 10 giorni non ha adoperato qualche goccia di aloperidolo facciamo finta di nulla ma non sto parlando che debba essere demonizzato in questo senso ha una sua funzione il più potente D2 bloccante è un farmaco che risolve mille problemi non parlo della one shot parlo del fatto che oggi si sa che quei farmaci sono farmaci neurotossici in un contesto romano una volta uno dice vabbè ma allora ridateci l'EPS nel senso che se i problemi fossero stati soltanto i sintomi extra piramidali tutto sommato questi farmaci uno se li poteva anche gestire il problema è che fanno male al cervello utilizzandole a 10 12 15 milligrammi per anni per anni sono farmaci neurotossici farmaci di nuova generazione non sono neurotossici sugli orali già c'è c'è chi si è come dire spinto a parlare di un effetto neuroprotettivo e per i Lai non mi sento di dirlo ufficialmente ma comunque è chiaro che visto che la farmacocinetica è praticamente sovrapponibile la farmacodinamica è possibile che da qui a breve avremo prove dell'effetto neuroprotettivo quindi non solo noi facciamo bene al paziente lasciandolo in una fase di zona di conforto una quiescenza ma addirittura quell'azione neuroprotettiva che ad esempio viene riconosciuta al litio in maniera abbastanza unanime si sa che il litio nel lungo termine ha un'azione neuroprotettiva sul cervello dei pazienti bipolari e quindi l'utilizzo precoce ovviamente prima si adopera e meglio è questa era tutta una review fatta anche sui ragazzetti sotto i 18 anni in Italia non c'è questa indicazione ancora ma l'uso off-label è comunque un qualche cosa che non ci manda in prigione l'off-label è un qualcosa che se supportato dalla letteratura si può fare anche qui alzi la mano chi non ha prescritto o somministrato un laio a un ragazzetto di 17 anni e mezzo raccontandosi vabbè manca poco poi è grande e grosso insomma voglio dire questo tanto si dice il peccato ma non il peccatore era soltanto questo è un lavoretto fatto nel nostro gruppo ci ha fatto la tesi qualche tempo fa un ragazzo molto in gamba che Antonino Minervino che sta lì conosce e sa pure di chi si tratta ha fatto questa tesi ma la cosa interessante non è tanto il fatto che l'aripiprazzolo e il pariperidone funzionassero bene eccetera tutte e due è abbastanza evidente mi faceva piacere farvi vedere questo a testimonianza del fatto che uno non predica bene il razzola male se vedete la terza rettangolino verde l'intervallo fra la prima visita e l'utilizzo dell'AI era sei mesi di media con 70% di pazienti che lo facevano dopo il primo mese dalla visita cioè quindi abbastanza presto non si dicono cose e poi uno traccheggia perde tempo e le va a dire ai congressi e poi in realtà ha un atteggiamento il 70% di questi circa 100 pazienti erano stati inseriti in l'AI entro il mio mese visto, individuato stabilito che potevano andare bene stabilizzato se pensiamo a questo farmaco la stabilizzazione non vuol dire che il paziente debba essere guarito perché è una contraddizione in termini se non gli daremo dopo una ventina d'anni stabilizzare o per quanto riguarda questo farmaco è accorgersi ad esempio che non abbia la catesia che può essere l'aspetto più fastidioso se un paziente dopo 10 giorni di orale non ha la catesia vuol dire che il farmaco non gli crea problemi e si può volendo se ci sono i presupposti passare questa era la conferma che volevo dirvi ultime tre diapositive sono rappresentate questa è la foto dell'attività della Lai Clinic che gestiamo giù a Sant'Andrea quello che vedi dal centro è il numero di punture fatte non pazienti sarebbe mezza Roma tutti da noi punture fatte nell'arco di questi cinque anni vedete la differenziazione per quanto riguarda i farmaci manca come dire una sorta di piccolo riferimento ad alcuni pazienti che sono finiti in trevita stiamo provando anche la formulazione per correttezza di informazioni questa è più o meno come è divisa al momento ma è una questione anche di come dire di anzianità di arrivo sul mercato per ovvi motivi era per farvi vedere questa è un po' la foto che si fa ogni tre mesi relativamente allo stato dell'arte quindi noi abbiamo monitorizzato ogni tre mesi i pazienti i motivi delle punture quante sospensioni perché sospensioni eccetera eccetera quindi c'è sempre una fotografia del coso la cosa interessante è che se andate a guardare aderenza complessiva 65.3 e sotto c'è scritto in piccolo per chi sta dietro che quelli che hanno smesso di prenderlo non obbligatoriamente né per inefficacia né per effetti collaterali scelte cambio di asl necessità di spostarsi quindi diciamo che quel 65 può arrivare tutto sommato abbastanza facilmente a 70 e che cosa vi ricorda questo 70 vi ricorda il contrario quello che giustamente Guido ha individuato e che sarebbe invece quel 70% 75% di pazienti che normalmente dopo due anni hanno smesso di curarsi questi sono pazienti che a due anni e mezzo dall'inserimento nel gruppo il 70% di chi ha iniziato continua a curarsi che cosa vuol dire vuol dire che i pazienti gli fa piacere che l'aderenza è sicuramente garantita in quello studio che ho scorso velocemente per non perdere tempo c'erano dei dati che facevano riferimento al fatto che mano a mano che i pazienti venivano seguiti diminuivano fino a crollare i ricoveri diminuivano il numero di pasticchi o di compresso di farmaci date in più erano pazienti che venivano da due antipsicotici lo stabilizzatore l'idri di benzodiazepine eccetera eccetera tutto si assottiglia nell'arco di un anno quello studio era stato fatto su un anno di osservazione quindi diciamo con una sicuramente una realtà positiva avete visto i numeri non sono migliaia questi pazienti vanno selezionati è chiaro che si debbano trovare delle indicazioni ovviamente precise qualche volta l'off label o l'on label per capirsi qualche volta crea qualche problema il DSM5 ci aiuta perché ci ha dato una descrizione della schizofrenia talmente grossier fra virgolette che ci possiamo mettere dentro so Bloiler probabilmente si riporterebbe nella tomba ma è chiaro che questo tipo di realtà ha un paio di deliri un paio di allucinazioni da un mese e potremmo in teoria fare una diagnosi di schizofrenia quindi quello della sintomaturgia in acuto è un'idea mio per immaginare che un paziente delirante se dopo un mese e mezzo ha smesso di delirare sia un intervento brillante credo insomma stiamo a livello oramai avrebbe imparato a gestire questo aspetto il problema è il lungo termine e il problema è quello della remission e che nel corso del tempo poi è stato inglobato in questo grande termine di recovery che vuol dire recupero recupero funzionale che vuol dire in qualche modo poter riprendere a funzionare poter riprendere a fare piccoli progetti proporzionati sempre chiaramente a una malattia gravissima un ultimo commento anche questa qualcuno può averla già sentita però è troppo divertente in un'occasione del genere parlando in un convegno feci vedere una diapositiva che faceva riferimento alla recovery e stando a Roma e quindi stando in un contesto romano uno disse vabbè allora tutte queste cose e poi un recovery pure ecco il recovery non era quello era inteso una cosa più elegante quindi non pensiamo a recovery ma pensiamo a questo recovery vi ringrazio per la testa grazie grazie Roberto anche per essere stato nei tempi perfettamente penso di poter dire che un comune denominatore sia della torreazione che anche quella di Alessandra era quella che dobbiamo avere fiducia anche nei nostri pazienti e pensare che forse sanno anche loro cosa è meglio per loro perché a volte noi non proponiamo determinati farmaci sulla base di nostre convinzioni ma non spieghiamo chiaramente a loro invece cosa è meglio e cosa no e a volte ci sorprendono invece scegliendo loro poi determinate cose e un altro aspetto è anche quello che è comunque molto importante dell'attenzione agli effetti collaterali che era l'altro aspetto anche della relazione di Dishashio l'efficacia sicuramente ma anche attenzione a quello che migliora la qualità della vita dei nostri pazienti visto che questi pazienti poi devono comunque fare terapia per lungo tempo e in questo senso anche il discorso farmacocinetico dei LAI che consente di utilizzare negli anni con una dose costante dei dosaggi più bassi e quindi sicuramente migliorando poi anche l'aspetto del funzionamento l'altro sono i costi che era stato citato che però è una cosa veramente vergognosa perché se pensiamo a quello che costano farmaci di altre categorie parliamo fra tutti chiaramente di farmaci oncologici e quando noi andiamo a discutere con il nostro direttore generale abbiamo sforato del 10% perché abbiamo speso 2.000 euro in più loro sforano dell'1% e spendono 100.000 euro in più cioè allora un minimo di proporzioni tenendo conto di quello di cui stiamo parlando adesso con tutto il rispetto per le malattie oncologiche ma a volte si spendono le cifre esorbitanti per sei mesi un anno di vita e noi magari hanno tutta la vita davanti e facciamo problemi per spendere due soldi più e due soldi meno anche qui non costiamo nulla come disciplina medica in quanto costiamo sulle persone e su quei quattro farmaci che abbiamo di cui la maggioranza sono anche fuori brevetto per cui direi di ritornare un attimino nel senso abbiamo un pochino di spazio per qualche domanda sono state molto belle queste relazioni se qualcuno ha qualche commento anche pratico di quello che facciamo abitualmente sui farmaci di cui abbiamo parlato volentieri prego intanto grazie per le bellissime relazioni di Sandra e del professor Brugnoli sui Lai avrei una curiosità da questo aspetto perché stando nell'esperienza che abbiamo con l'utilizzo soprattutto di arepiprazoloma in Tena che è la recovery non il ricovero ma proprio la recovery è talmente buona e i pazienti stanno talmente bene che abbiamo difficoltà poi a gestire la terapia nel lungo termine parlo del terzo anno di terapia iniettiva per cui i pazienti che riprendono a lavorare riprendono a fidanzarsi a fare una vita normale direi hanno come unico diciamo obiettivo obiettivo quello di tornare ad una completa restituzione ad integrum e quindi a sospendere l'AI in questo senso siamo andati molto avanti dal punto di vista farmacologico ma forse per lo meno con i mezzi potenti mezzi che abbiamo al CSM di Sassari dove io lavoro è difficile avere uno spazio psicoterapico adeguato per poter diciamo fare un lavoro di psicoeducazione corretta e fare in modo che questi ragazzi proseguano nella terapia quindi la domanda è per quanto tempo e come fare a convincerli che bisogna continuare la terapia grazie questa è una bellissima domanda in effetti nei dati che avevo selezionato c'era anche proprio questo problema questo problema che era legato al fatto di una volta raggiunta la insomma la recovery e la qualità di vita migliorata il paziente smetteva la terapia e loro suggerivano la letteratura ci suggerisce di migliorare l'alleanza terapeutica anche se perché il paziente si fida del proprio terapeuta anche se quello che il terapeuta gli dice dice loro è diverso dalla sua sensazione quindi questo è il primo il secondo è molti di noi non utilizzano il live al primo episodio proprio perché pensano che quando il paziente ricade più ricade più si rende conto che sta male e ha bisogno della terapia questo è un paradosso ma è una cosa che capita io non so rispondere a questa domanda sicuramente la psicoeducazione ho visto l'ho vissuta in prima persona aiuta tantissimo ma la psicoeducazione è anche una questione di alleanza terapeutica perché se non c'è l'alleanza puoi dire quello che vuoi al paziente ma lui non si fiderà mai tanto di quello che sente però non so se è d'accordissimo voglio solo dire un paio di esperienze personali due o tre pazienti devo dire abbiamo ceduto dopo una lunga seduzione al fatto di sospendere e tornare alla terapia orale dopo tre o quattro mesi hanno chiesto di ritornare alla puntura ti dicevano delle cose tipo non so spiegarle io sto bene mi sento bene cura terapia orale non ho problemi ma e quindi sono stati velocemente riaccolti come il figlio il prodigo quindi è stato ucciso l'agnello appena sono tornati tre o quattro ci abbiamo provato erano i più fedeli quelli che da tre anni erano perfettamente asintomatici non guariti perché sai un termine grosso parlando di un paziente affitto di schizofrenia dire che era guarito però un funzionamento discreto mi ricordo uno aveva ripreso un po' studi chiari un altro lavorava nel negozio del padre e il padre era entusiasta di questo ragazzetto che si muove quindi diciamo rifunzionavano al terzo quarto mese di sospensione sono tornati tutti dicendo stavo meglio ed è probabilmente legato anche a quegli aspetti non solo clinici ma della farmacocinetica la farmacodinamica del farmaco consente anche di abbassare semplicemente il dosaggio e facendo anche il dosaggio ematico del farmaco cioè più lo tieni basso e meno tutti i discorsi sono detti e più effetti collaterali hai e più stabilizzi però la cosa fondamentale è tenerlo stabile nel tempo poi si possono anche abbassare le dosi quello si devo dire noi la maggior parte dei pazienti sono tutti a 400 mg due o tre abbiamo sentito il bisogno di abbassare perché ecco prima lei faceva riferimento a questa bellissima chiamiamola recovery o comunque questo ottimo funzionamento perché poi mi sa che con te già una settimana fa parlavamo della stessa ecco qui ripetita a Juvent ci eravamo visti in un altro contesto e quindi non sentiamo spesso la necessità di abbassare mi permetto di dire una cosa che probabilmente per la maggior parte di voi è scontata però qualche volta me lo sento dire se uno decide perché il paziente è troppo giovane perché è piccolino perché dice ma stai pesa 45 kg e ha l'idea che la puntura sia troppo i famosi 400 mg al terzo quarto mese abbassatela non all'inizio perché se non ha raggiunto ancora lo steady state è inutile partire con un dosaggio più basso si fa un intervento un po' bloccato quindi si fa quattro mesi per raggiungere lo steady state a 400 e poi se si ha la sensazione che sia troppo da quel momento in poi se ne butta 50 euro che se lo sanno i nostri amministratori perché lì si tratta proprio di prendere un quarto della fiala e buttarla più o meno questo era il senso allora in teoria le linee guida ci direbbero che dopo un primo episodio dopo due anni di cure e di paziente completamente asintomatico si potrebbe provare a sospendere se durante quei due anni ci dovesse essere stata una rigaduta un relapse bisognerebbe portarla a cinque anni se ce ne è uno o due è evidente che non si può più fare nulla quindi certo un paziente primo episodio trattato benissimo che sta perfettamente bene sembra recuperato insomma uno incrocia le dita e ci prova ecco sarebbe da provarci purtroppo siccome di questi pazienti così puri che sono al primo episodio non ne abbiamo tantissimi abbiamo sempre a che fare con pazienti che giungono da noi in centri un po' come dire selezionati e quindi arrivano come seconda terza scelta è raro che hai troppi margini lo inizi a curare e non smetti più ecco questo è un po' il senso più o meno qualche altra domanda? va bene ah sì prego c'è una domanda sono due domande salve innanzitutto grazie per le bellissime relazioni sono davvero molto felice di aver partecipato a questo congresso in qualità di giovane psichiatra ancora specializzanda sono al secondo anno di specializzazione a specializzazione esatto e volevo chiedere una cosa alla luce dell'introduzione della cari prazzina come possono essere reinterpretati i dati rispetto ai long acting nel senso rispetto ad un esordio schizofrenico in un paziente giovane allo stato attuale è da preferire comunque l'utilizzo del long acting a fronte della cari prazzina dell'uracidone nuovi farmaci che noi possiamo utilizzare soltanto insomma in compresse oppure è da preferire comunque il long acting anche di fronte ad un farmaco che almeno dal punto di vista insomma nella letteratura dimostra una superiorità rispetto ai farmaci insomma di seconda generazione grazie ma insomma senti come dire come aspirante giovane specializzanda brava forse è un po' tranchant dire che sicuramente la cari prazzina è migliore non lo sappiamo insomma nel senso la cari prazzina è un ottimo farmaco va a riempire una nicchia è un farmaco con un'azione agonista antagonista sui recettori di 3 dei quali tutti siamo affascinati perché si cerca sempre e poi queste di 3 poi ogni tanto non si capisce bene di preciso a cosa servono non hanno la dignità rigorosissima del di 2 che fa determinato delle cose e basta però intorno a questo di 3 c'è un sacco di roba e ci si sta che possa essere considerato il farmaco di prima scelta in un esordio non lo so ancora credo che dovremmo raccogliere dati farsi esperienza anche qui alzi la mano chi ha dato più di 5 volte la cari prazzina ai propri pazienti nel senso sono pochi mesi che è in circolo quindi aspetterei un attimo lo stesso dicasi per il lurasidone che fa parte di questa famiglia dei don no? quelli di idone, risperidone ziprasidone quindi sappiamo che cosa aspettarci da questo farmaco è un farmaco con una bella attività sui D2 quindi con anche però il rischio di una sintomatologia negativa nel lungo termine quindi al di là del fatto che bisogna farsi esperienza e non abbiamo certezza io probabilmente non adopererei la cari prazzina ad un esordio però mi sto facendo un'idea di dove poterla andare ad operare ma qui oggi parliamo di esordio il discorso dell'AI è legato proprio al fatto non tanto la molecola è chiaro che la molecola deve essere efficace se no è inutile ma è la tipologia e la modalità di somministrazione e non solo per questa famosa alleanza terapeutica che tutti diciamo che è importantissimo ma proprio perché è una modalità più stabile di curarsi oggi in tutte le aree mediche si fa la ricerca delle insuline i farmaci biologici che adoprono in oncologia per le artrotie psoriasiche sono tutti farmaci che si fanno una volta al mese secondo un ritmo dopo ecco allora è un po' la modalità che è vincente questo è il discorso però fra due anni ci rivediamo con le esperienze sulla cari prazzina sembra che c'era anche il professore Amore dunque vorrei chiederle come ne ho iscritto al secondo anno della scuola vorresti eh vorresti secondo anno perché ne ho già ripetuti due no alcune domande Alberto ho pazienti quindi con una diagnosi grosso modo di schizofrenia grosso modo puntini puntini una diagnosi che sta più verso la bipolarità in modo piuttosto netto con sintomi psicotici la mia esperienza personale che in questi pazienti funziona molto bene meglio rispetto alla schizofrenia almeno come esperienza eh quindi la base di questo anche la base fisiopatologica non voglio fare domande di cui io stesso non so la risposta per dire però qualcosa mi sollecita a livello di fantasia secondo punto terapia a lungo termine noi sappiamo già dagli studi degli anni 90 che la terapia lo dosis è la terapia migliore io quando ho provato a sospendere nei miei pazienti anche un milligramma di qualcosa spesso è stato un disastro o quando l'ho visto fare da altri colleghi poi sono venuti da me e francamente è stato molto difficile spesso di prendere in mano la situazione quindi come te la cavi con lung acting vero le mie guida dicono giustamente quello che avete detto e basta poi nel mondo reale ogni tanto però c'è un certo disagio quindi come ti regoli il terzo aspetto forse collegato con questa domanda è che il mondo è diverso nel senso che un conto sono i vecchi pazienti e un conto sono i nuovi sui vecchi abbiamo esperienze molto sporche cioè di recettori ormai saltati quindi quello che tu hai fatto vedere giustifica anche la non so quanto siano attendibili proprio i dati su quei pazienti che ormai hanno avuto già 2, 3, 4 episodi e dove quindi il processo di degenerazione è andato avanti ultimissima cosa ho notato in alcuni casi una perdita di efficacia per esempio di alcuni farmaci decanoati punto dopodiché cambiando invece antipsicotico anche se gemello anche se fratello ho ottenuto dei buoni risultati ha un senso questo oppure no ha un effetto placebo mio oddio per essere del secondo anno sei preparato e se comprimi adesso non mi ricordo bene l'ordine ma insomma orientativamente uno sì ho capito il sottile riferimento al fatto che ad esempio noi non abbiamo per i LAI parlando anche dell'aripiprazolo non abbiamo l'indicazione per i disturbi bipolari nei Stati Uniti c'è oramai già da 2 anni alzi la mano qui credo si possa dire fra colleghi chi non pensa che sarebbe un ottimo farmaco in alcune situazioni credo che un'associazione aripiprazolo litio renderebbe veramente piacevole la vita dei pazienti dei familiari e di noi quindi qualche volta siamo costretti a questi escamotage nelle nostre cliniche è esplosa la diagnosi di disturbo schizio affettivo che da da Casanin in poi dal 1938 si adoperava poco e quindi quello perché ci aiuta a fare l'utilizzo di questo farmaco e quindi è vero probabilmente è proprio legato alla sua modalità questa azione non blocca mai ferocemente quindi come non è un bene in qualche situazione può essere un male perché abbiamo dei casi in cui il blocco serrato dei D2 ci serve in certe patologie in certi aspetti gravi quando appunto si faceva riferimento al fatto giustamente Mario diceva la schizofrenia di un tempo oppure questi quadri moderni questi quadri moderni complicati dall'abuso di sostanze questo è un farmaco che negli abusatori di sostanze ha un grosso senso perché è chiaro che se il meccanismo a bilancia è che un paziente più blocchi di D2 è più a voglia di farsi perché deve andarsi in qualche modo a stimolare il nucleo accumbens più il blocco è poco serrato è un blocco sblocco blocco sblocco blocco sblocco legato all'agonismo antagonismo più è possibile che la ricerca esasperata della sostanza diminuisca e quindi può avere un senso anche in questa tipologia di pazienti basse dosi allora io mi sono formato con vari tentativi cioè i tentativi erano addirittura si sospende ma se c'è un caregiver attento lui ti dà i primi segnali della recrudescenza della malattia fallimentare la recrudescenza non veniva intercettata e quando poi ti chiamava il caregiver lui già stava mettendo la nonna dentro il forno eccetera eccetera quindi per dire quindi quello no il low dose sì questo vale in linea di massa nei trattamenti a lungo termine però per dire per quanto riguarda questi farmaci non abbiamo ancora raggiunto quel lungo termine da considerarlo lungo termine perché magari ci sono gli ultimi che sono entrati sei mesi fa quelli che se lo fanno da più tempo sono tre anni tre anni e mezzo quattro anni eccetera quindi vedremo nel corso del tempo è chiaro che è possibile che come diceva la collega quelli che stanno veramente molto molto bene non puoi permetterti di staccare ma nello stesso tempo forse l'abbassamento del dosaggio può essere importante la perdita di oso quello noi lo vediamo abbastanza frequentemente perché abbiamo non so pazienti che per un anno non fanno supplementazione poi improvvisamente c'è bisogno di rifargliela è come se ci fosse una sorta di fisiologica oscillazione di modalità di risposta per cui quello che per sei mesi otto mesi l'avevi messo nel tuo retro pensiero nel paziente ormai perfettamente stabilizzato ha una recludescenza e allora a quel punto lo supplementi la supplementazione non è una vergogna quando noi raccontiamo che questo è fatto apposta perché il paziente prende solo quello lo sappiamo che è una mezza bugia una white line una bugia bianca sì forse sì avremo qualche paziente che fa solo la puntura e basta ma molti nostri pazienti hanno la supplementazione che mi verrebbe da dire sarebbe carino fosse della stessa molecola che hanno come longhetti e qui invece scappa l'aloperidolo di nascosto che è un po' come scoprire che la propria moglie ti mette le corna con così che non so con chi Brad Pitt e tu dici vabbè con Brad Pitt te glielo concedo queste dieci goccettine se sta prendendo il maintena e diamogli 10 milligrammi o 15 milligrammi di aripiprazzolo o un altro diamo il dosaggio della formulazione orale di quel farmaco per non inquinare e non creare situazioni per le quali ti trovi strani pazienti che non avevano avuto un'impregnazione a pagare lavoro e improvvisamente arrivano e scopri che sono impregnati ma come mai come mai sai il medico di famiglia per non disturbare lei ha detto ma prendi 10 gocce di alloperidolo l'hai presa tante volte nella vita ecco un po' questo credo più o meno spero di aver risposto sì ok grazie infatti dicevo il problema grosso per i farmaci nuovi e poi chiudiamo è proprio il problema anche delle indicazioni perché sappiamo benissimo che funzionano bene sui disturbi bipolari soprattutto gli ultimi anzi sugli episodi depressivi bipolari ci sono già le indicazioni e vanno bene il problema è che in Italia abbiamo delle limitazioni di scheda tecnica infatti mi chiedo a volte come sarebbero i nostri studi se potessimo veramente scrivere le diagnosi dei nostri pazienti quando facciamo gli studi clinici su ricoverati tanti schizofreni tanti cose se potessimo veramente mettere le diagnosi ora detto la giusta diagnosi diciamo così e non quella legata alle indicazioni del farmaco forse avremo anche dei dati molto diversi c'era mi sembra un'ultimissima domanda e poi dopo magari Roberto volevo chiederti questo se potevi spendere proprio due parole su quell'argomento che abbiamo trattato la settimana scorsa cioè quegli accessi e spesso quegli esordi in doppia diagnosi e l'importanza anche qui eventualmente di un lai in queste situazioni che stanno diventando sempre sempre più frequenti e che io vedo in SPDC con una frequenza ormai che raggiunge quasi quello degli esordi cosiddetti puliti cioè solo psicotici e che d'altra parte vede purtroppo devo dirlo il CERD un po' assente da questo tipo di tematiche perché ha un'attività molto più improntata come è venuto fuori anche l'altro giorno ancora sull'utilizzo non soltanto del CERD come distributore di metadoni piuttosto che come fautore di veri e propri interventi di cura e di recupero di questi pazienti spesso con una che abbiamo definito doppia diagnosi ma che qualcuno come Sergio De Filippis ha ridefinito come diagnosi duale cioè sempre più frequente sempre più attaccata sempre più responsabile poi di esordi specialmente in giovanissima età e poi di ricadute Sì ecco fermo restando che hai fatto bene a citare Sergio che bene o male oramai si sta facendo questa fama di grande conoscitore dell'argomento il problema è che noi non dobbiamo confonderci noi non è che ci dobbiamo occupare dei tossicodipendenti è un argomento che non ci riguarda noi ci dobbiamo occupare dei nostri pazienti che abusano adesso voi direte vabbè ma giochiamo facciamo dei sofismi no non è così perché un conto è l'atteggiamento culturale che io oltretutto non conosco bene non è un mio argomento del tossico fra virgolette di un certo tipo un conto sono i nostri pazienti nei quali non abbiamo nemmeno certezza che in realtà qual è il rapporto causale fra l'abuso e la malattia psichiatrica sono diventati malati psichiatrici perché hanno abusato di sostanze e non ci sarebbero diventati avrebbero potuto continuare a avere una meiopragia ma non sarebbero mai diventati né bipolari gravi né schizofrenici se non avessero adoperato le sostanze o hanno iniziato ad operare le sostanze anche come self therapy anche come autocura anche in quelle situazioni in cui in conseguenza della malattia psichiatrica si sono trovati a fare questo allora quando ci dicono ma voi parlate curate no no noi non entriamo in competizioni con il CERD noi ci occupiamo dei nostri pazienti il problema è che il 60-70% dei pazienti psichiatrici abusa e quindi oggi il termine doppia di agnosi è praticamente diventato giustamente obsoleto è come dire uno che abbia la bronchite in copresenza con il catarro e la febbre è una sindrome oggi un paziente psichiatrico grave abusa non c'è niente da fare se ci fosse anzi c'è stato ieri Biggio immagino che potrebbe aver parlato ah non è venuta l'avevo visto non è stato bene ok vi avrebbe parlato delle grandi canne ovviamente non di come dimensioni ma con quantitativi 30-40 volte più alto di tetraidocannabinolo dei nostri tempi di quando eravamo giovani noi della devastazione che queste sostanze creano e sul fatto che poi queste psicosi sono psicosi confusionali quelli che chiamano le psicosi sintetiche sono altri aspetti sono altri proprio pazienti che vedi in maniera differente rispetto a quello che era l'esordio dei nostri tempi su questi pazienti l'utilizzo di molecole che possano ovviamente gestire la parte psicotica ma non in maniera aggressiva tanto da poter lasciare questo flusso dopaminergico strettamente legato all'azione agonista e antagonista della molecola può sicuramente avere un senso non è rivoluzionaria non è per forza la soluzione di tutti i problemi ma ha sicuramente un senso quindi vabbè grazie professore io direi che la sessione è conclusa è alle due e mezza tutti qua riprendiamo grazie 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 grazie